Salve da Scriptamanent. Parliamo della battaglia di Azincur, uno scontro del primo quattrocento che si può riassumere molto semplicemente, un assoluto e autentico carnaio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Nonostante parliamo di uno scontro del primo quattrocento, però sempre manteniamo l'amore e il contatto con la storia dell'antica Roma. Quindi, siccome so che gran parte del pubblico ama la Roma antica, ricordate che sul portale Expo Italy Art, nostro portale di Scriptamanent, trovate le riproduzioni su tela artigianali con i vessilli delle più gloriose legioni dell'antica Roma. Tutti questi vessilli hanno i nomi delle antiche legioni, gli animali che rappresentavano quei gloriosi legionari. Queste sono delle riproduzioni che stanno piacendo tantissimo a tutti gli appassionati e in particolare, se volete saperlo, quello della legio decima equestris, è il più comprato in assoluto, perché è quello della decima legione di Cesare, ma anche la decima fretensis, di cui abbiamo appena fatto un documentario ed è la legione che è stata creata da Ottaviano Augusto e che ha partecipato a tutta la grande storia dell'impero romano. Quindi, scegliete il vessillo della legione che preferite, un lavoro artigianale e mettete nella vostra casa il segno tangibile dell'amore che avete per la storia di Roma. Quindi, ricordando sempre che la storia romana è sempre al primo posto anche nelle mie passioni, però parliamo della battaglia di Azzincurro che è una battaglia molto particolare e come vi ho detto è un carnaio assoluto e adesso vi guidiamo a capire un po' la situazione. Allora, ci troviamo nella guerra dei cent'anni. La guerra dei cent'anni è un conflitto che è durato cento anni, anche di più, 116 anni complessivi, tra l'Inghilterra e la Francia. Per quale motivo è nato questo conflitto? Diciamo che l'origine di questo conflitto è una serie di contese territoriali, poi ovviamente c'erano anche una lotta geopolitica tra queste due grandi potenze, però l'origine della guerra dei cent'anni viene identificata dagli storici nella figura di Guglielmo il Conquistatore. Guglielmo il Conquistatore era il duca di Normandia, una regione della Francia, che era vassallo del re di Francia Enrico I. Però divenne anche questo Guglielmo il Conquistatore il re d'Inghilterra, quindi re d'Inghilterra Guglielmo I. E quindi automaticamente il re d'Inghilterra divenne contemporaneamente, oltre al trono d'Inghilterra, possidente di diverse zone della Francia. La situazione poi si complicò ulteriormente, perché un successivo re d'Inghilterra, che fu Enrico II, si sposò con Eleonora di Aquitania, e l'Aquitania un'altra regione francese. Questa donna diede in dote al re d'Inghilterra Enrico II l'Aquitania e la regione della Guyenna, e quindi come vedete ormai i re inglesi, per via di parenti e di matrimoni e di dote che veniva dai matrimoni, potevano reclamare la proprietà su ingenti zone della Francia. E quindi automaticamente il re di Francia dovette lottare per limitare le rivendicazioni territoriali e per non farsi strappare tutto il territorio dai monarchi inglesi. Questa è la base e l'origine della guerra dei cent'anni, che poi ovviamente si complica con scontri di grandissima portata, invasioni, e quindi poi in un documentario specifico vi spiegheremo. Però questo è lo scenario, questa grande guerra dei cent'anni e la contesa territoriale tra l'Inghilterra e la Francia. Quindi, per arrivare al periodo di cui trattiamo, in questo momento abbiamo sul trono d'Inghilterra Enrico V, che sale al trono nel 1413. Enrico V ha una personalità molto forte, è forte, è deciso, a tratti anche un po' arrogante, e vuole avere molta gloria, perché questa è l'epoca dell'istinto e del codice cavalleresco, no? Quindi voleva avere gloria per se stesso, gloria per il suo popolo e gloria per la casata dei Lancaster. Lui riteneva che grandi vittorie militari avrebbero permesso ai Lancaster di governare la politica inglese. Inoltre, era proprio una strategia politica del tempo, quella di utilizzare la guerra per risolvere le contese che ormai si protraevano da decenni con la Francia. Cioè, la guerra non era una cosa da evitare, era anzi uno strumento da utilizzare per risolvere le contese e stabilizzare lo Stato. Quindi noi abbiamo un sovrano, monarca inglese Enrico V, che è prontissimo a combattere e a portare avanti la guerra contro la Francia. Sul trono francese, invece, c'è un altro sovrano, che sarebbe Carlo VI, che soffriva di una grave malattia mentale, quindi era gravemente instabile, non era in grado di prendere decisioni lucide e quindi il trono di Francia era nel caos più assoluto. Tanto il caos era ormai diffuso che la Francia era praticamente in una sorta di guerra civile, perché c'erano due partiti politici, gli Armagnacchi e i Borgognoni, che si contendevano in nome del re il controllo della Francia e quindi c'era una guerra civile che destabilizzava il paese in maniera importante. Quindi la Francia si trovava in un momento pessimo per gestire una guerra, una ripresa della guerra contro gli inglesi. Però questa era la situazione. Quindi il re d'Inghilterra voleva la guerra contro la Francia. In realtà lui voleva fortemente la guerra, però i suoi consiglieri politici e militari cercarono di portarlo a più miti pretese, cercarono anche di farlo trattare con la Francia, di avere almeno un incontro diplomatico e quindi da parte dell'Inghilterra giunse una proposta diplomatica alla Francia. In particolare qual era il concetto? Il concetto era il seguente. Enrico V era parente di Edoardo III d'Inghilterra e per via di questo legame lui dice io potrei rivendicare addirittura la proprietà del trono di Francia, cioè io potrei essere il re di Francia per le mie parentele e per i miei legami familiari, ma sono disposto a rinunciare al trono di Francia, quindi rinunciare a questo titolo che secondo me mi spetta in assoluto, in cambio di alcune concessioni. Primo concessioni territoriali. Voglio per esempio che le zone delle Fiandre, della Normandia, dell'Aquitania e anche altre appartengano a me, al trono d'Inghilterra di diritto. Inoltre voglio anche un pagamento. Voglio che mi vengano pagate 1,6 milioni di corone. Per quale motivo? Perché questo era sostanzialmente un riscatto che i francesi dovevano agli inglesi quando era stato rapito il re di Francia Giovanni II e siccome questo riscatto non era ancora stato pagato completamente i francesi dovevano pagare questo riscatto e saldare il loro debito. Quindi vuole un milione e 600 mila corone per essere soddisfatto. Inoltre vuole sposarsi con Caterina che era la figlia del re di Francia Carlo VI. Queste proposte sono delle proposte veramente molto ampie, praticamente inaccettabili. I francesi provarono a rispondere, a fare una controproposta. Proposero infatti di cedere l'Aquitania al re d'Inghilterra, un'Aquitania anche con vaste zone a fianco, quindi un'Aquitania allargata possiamo dire così, e erano disposti ad accettare il matrimonio tra Enrico V e Caterina con una dote di 600 mila corone e quindi anche questo era un bel contributo economico. Però in realtà Enrico V si sentiva talmente forte, aveva talmente tanti alleati, che voleva arrivare alla guerra a tutti i costi e alla fine impose delle condizioni di pace talmente inaccettabili che fece naufragare ogni azione diplomatica. Accusò i francesi di prenderlo in giro, di perdere tempo, addirittura di ridicolizzarlo, cioè di non rispettarlo a sufficienza, e quindi si arrivò a una nuova fase della guerra dei cent'anni. A questo punto Enrico V prepara l'esercito per l'invasione della Francia. Innanzitutto ha bisogno di una flotta per superare lo stretto della manica e sbarcare nella Francia del nord. Allora dà immediatamente ordine, soprattutto al cantiere navale di Southampton, di costruire delle navi da guerra il più velocemente possibile. Inoltre, acquista dagli olandesi diverse navi da guerra e quindi mette su una flotta con grandissima energia. Le fonti antiche del tempo dicono addirittura 1500 navi da guerra, è un numero certamente esagerato a cui gli storici non credono, però la flotta comunque doveva essere piuttosto imponente. Inoltre fa una campagna, fa una leva per reclutare degli uomini. Chiama tutti i nobili inglesi per ovviamente la gloria dell'Inghilterra, per finire la guerra con la Francia e si offre di pagarli, di stipendiarli lui personalmente e allora queste milizie che lui è disposto a pagare raggiungono i 12.000 fanti e i 20.000 cavalieri. Quindi con un esercito così ampio, così grosso e ben organizzato, parte nella sua spedizione di invasione della Francia e qui la cartina ci permette di capire un po' i suoi movimenti. Il 13 agosto del 1415 Enrico V sbarca nel nord della Francia e in particolare a Cap de la Heve, che sarebbe dove c'è la foce del fiume Senna. Sbarca con i suoi uomini in grande stile, quindi un contingente di invasione terribile solo a guardarsi e per prima cosa assedia il porto di Harfleur, che era in una posizione strategica e doveva essere conquistato. Ora l'assedio del porto di Harfleur finisce in una vittoria, cioè Enrico V conquista il porto di Harfleur, però innanzitutto ci mette molto più tempo del previsto, quindi la situazione si complica. Inoltre le condizioni meteorologiche, migliaia di uomini ammassati, il tempo che passa, il fango, il freddo, fanno scatenare delle epidemie nell'esercito inglese e centinaia e centinaia di uomini cominciano a morire o a stare molto male per la dissenteria, quindi la situazione si sta complicando. E però, nonostante queste complicazioni, decide di proseguire e in particolare contro il parere dei suoi consiglieri militari, che avrebbero preferito rimandare questa invasione, Enrico V da solo di imperio decide di proseguire e in particolare cerca di andare verso Calais, che era veramente una roccaforte, la principale roccaforte inglese in Francia, e quindi marcia a grandi passi verso Calais e prosegue la sua invasione. Nel frattempo i francesi cosa fanno? La Francia cerca di, fa un'enorme chiamata alle armi, chiama tutti i nobili francesi e li fa confluire alla città di Rouen, quindi il punto di raccolta dell'esercito francese, e allora i cominciano a inseguire, a tallonare Enrico V e in particolare cercano di bloccare il suo passaggio, e in una zona precisa, cioè all'altezza del fiume Somme, riescono a fermare Enrico V, che si trova l'esercito francese davanti, che gli impedisce di proseguire liberamente, e allora Enrico V è costretto a cercare un guado per superare il fiume e superare l'esercito francese. Nel corso del tempo, effettivamente, Enrico V si trova particolarmente in difficoltà, ma alla fine trova un guado, riesce a superare il fiume e alla fine ormai lo scontro con i francesi è quasi alle porte. E allora quali sono però le condizioni dell'esercito inglese e di quello francese? L'esercito inglese è messo piuttosto male, perché? Perché hanno pochissimo cibo, la spedizione a livello logistico è organizzata malissimo, quindi hanno pochissimo cibo, hanno sempre fame, gli uomini sono sempre meno. Ormai, di tutta quella grande masnada che si era portato, solamente 6.000, poco meno di 6.000 uomini gli erano rimasti, quindi perdeva uomini in continuazione. C'è poi da dire che le malattie e la dissenteria stavano veramente stremando l'esercito che quasi non ce la faceva più. Poi l'esercito inglese aveva percorso 420 chilometri in 20 giorni, cioè aveva fatto delle marce estenuanti per incunearsi nel territorio francese, quindi gli uomini erano stanchissimi e a questo punto Enrico V deve assolutamente arrivare ad una battaglia risolutiva con i francesi. Non può più aspettare, perché una situazione in cui il tempo trascorre porterebbe il suo esercito a essere irrimediabilmente logorato e quindi a perdere prima ancora di arrivare alla battaglia. Quindi Enrico V deve combattere, ha bisogno della battaglia decisiva. Dall'altro lato l'esercito francese è nella situazione perfettamente opposta. L'esercito francese ha fatto la chiamata alle armi, quindi tutti i soldati stanno accorrendo e riunendosi al grosso dell'esercito e a questo punto i francesi cercano di prendere tempo, anche con trattative fittizie nei confronti di Enrico V, proprio perché vogliono ingrossare le loro fila sempre più rapidamente e avere una superiorità numerica schiacciante. A un certo punto però, nonostante tutti i loro tentativi, Enrico V si muove in modo tale da costringere i francesi alla battaglia ed ecco che si arriva alla battaglia di Azincourt. E siamo arrivati alla battaglia di Azincourt. Innanzitutto, dov'è il luogo della battaglia? Non abbiamo assoluta certezza sul luogo della battaglia, nel senso che, secondo alcune interpretazioni degli studiosi, la battaglia è avvenuta tra il villaggio di Azincourt e quello di Tramecourt e quello sarebbe il luogo della battaglia. Mentre, secondo altre interpretazioni, il luogo sarebbe più ad ovest di Azincourt. Quindi, sotto questo aspetto, purtroppo, abbiamo ancora delle incertezze. Sappiamo però, perché per fortuna di questa battaglia abbiamo sette fonti di cui tre oculari, testimoni oculari della battaglia, e questo è eccitantissimo per gli storici, abbiamo contezza di come era il territorio. Cioè, le fonti oculari ci descrivono che il territorio della battaglia aveva ai lati delle zone ampiamente boscose e al centro c'era un terreno che era stato recentemente arato, quindi era molto morbido e facilmente si poteva trasformare in fanghiglia nel momento in cui fosse caduta la pioggia. Quindi, questo vi dovete immaginare come terreno dello scontro. E adesso andiamo allora a vedere un po' il comportamento e la disposizione sul campo. Sappiate però, nota importante, che la sera prima di disporsi sul campo di battaglia Enrico V fece delle azioni per mantenere il controllo sul suo esercito. Innanzitutto fece dei grandi discorsi ai suoi soldati, ai nobili d'arme che erano con lui, ricordando la gloria dell'Inghilterra, la necessità di battere la Francia e quindi discorsi di incoraggiamento. Costrinse poi tutti gli uomini a confessarsi, in modo tale da sentirsi anche spiritualmente pronti alla battaglia, e diede un ordine perentorio di stare assolutamente tutti zitti e muti nella notte precedente la battaglia. Altrimenti, chi avesse parlato avrebbe avuto un orecchio tagliato, quindi un ordine perentorio. Dopo questa notte quindi silenziosa, in pensiero, in preghiera, una notte buia, muta, senza volare una mosca, il giorno dopo si arriva alla vigilia della battaglia di Azincur e vedrete sarà veramente un autentico carnaio. E adesso vediamo questa cartina e mano a mano vi guiderò a comprendere tutta questa complessa cartina che ci troviamo di fronte. Innanzitutto il terreno dello scontro. Sulla sinistra abbiamo la collinetta di Azincur, con un piccolo villaggio, il villaggio di Azincur, che è una collinetta boscosa. Sulla destra invece la collinetta di Tramecour, anche lei bella boscosa. Avendo a disposizione queste due colline, re d'Inghilterra Enrico V sceglie di posizionare sulla prima e sulla seconda, 7.000 arcieri al comando di un grande veterano delle guerre inglesi che era Thomas Herpingham. Quindi 7.000 arcieri che devono prendere di mira i francesi non appena arriveranno a tiro. Dopodiché il grosso dell'esercito inglese, la fanteria, viene diviso in tre contingenti. Quello guidato direttamente da Enrico V è quello centrale, dove gli uomini d'arme sono posizionati in quattro file abbastanza serrate. Sulla sinistra c'è un contingente guidato da Thomas de Camois e sulla destra uno guidato dal duca di York. In mezzo tra le colline boscose e il contingente dei soldati e tra un contingente e l'altro ci sono degli arcieri e dei balestrieri, in modo tale da fornire un supporto alla fanteria. Davanti a tutto questo schieramento Enrico V fa posizionare decine e decine di pali, dei pali appuntiti e rivolti con la punta contro il nemico per prevenire l'avanzata della fanteria e l'attacco della cavalleria. Alle spalle di tutti questi uomini ci sono i bagagli e il bottino inglese che vengono posizionati in un piccolo borgoli vicino. Il totale di questi uomini, soprattutto la fanteria a parte i 7.000 arcieri, sono solamente 1.500 soldati. Sono pochissimi rispetto al numero francese. Quindi Enrico V deve utilizzare il territorio per una formazione difensiva, per cercare di mantenere il controllo sui ranghi e spera ovviamente di poter sopportare da fermo l'assalto francese. Andiamo a vedere il contingente francese. Il contingente francese è diametralmente opposto, cioè ci sono circa 10.000 uomini d'arme con 5.000 portatori di scudi, che erano una sorta di aiutanti, di valletti che portavano gli scudi, le spade e altre armi. Quindi in totale i francesi hanno veramente una grandissimo quantitativo di uomini, tanti che come vedremo non sapranno neanche che farsene. E allora questo enorme contingente francese viene posizionato in questo modo. Un primo contingente, un primo corpo, una prima fila di uomini d'arme che sono corazzati, hanno armature e corazze pesanti ed è un primo grande contingente centrale. Alcuni sono a piedi e altri sono montati, quindi sono a cavallo, in una posizione sostanzialmente mista, cioè misto uomini a piedi a cavallo. Dietro c'è un altro contingente uguale sempre di uomini d'arme pesantemente corazzati. Una cosa importante da capire, poi vedremo sarà importante ai fini della battaglia, è che i nobili ci tenevano ad essere in prima linea, ad essere davanti. Perché? Perché volevano avere gloria, ma volevano soprattutto vincere i loro pari grado inglesi e poi, una volta catturati, avere il riscatto per la loro liberazione. Quindi i nobili sono davanti, sono in prima fila e a guidare questi due contingenti abbiamo Carlo Albrecht e Bocicot, che guidano il primo contingente, e Giovanni Alençon ed Edoardo Terzo che guida il secondo. Quindi ricordatevi della presenza di tanti nobili in questa disposizione. Poi c'era un intero contingente piuttosto ampio di arcieri e di balestrieri. In teoria, inizialmente, il piano era quello di posizionarli ai fianchi degli uomini d'arme, però sia perché lo spazio era ristretto, quindi non c'era proprio fisicamente lo spazio sufficiente, ma anche perché si riteneva non fossero così fondamentali, alla fine, con un po' di confusione, un po' di incertezza, perché non c'è un unico grande comandante, alla fine si posizionano dietro. La cavalleria invece viene divisa in tre parti. Due contingenti di cavalleria si posizionano ai fianchi per cercare di attaccare gli arcieri e di neutralizzarli, mentre un terzo elemento di unità di cavalleria viene posizionato qui dove vediamo perché dovrà cercare durante il combattimento di raggiungere il bottino degli inglesi che è posizionato dietro e quindi destabilizzare l'esercito avversario attaccando le loro ricchezze. Questa è assolutamente la disposizione francese. È importante capire che gli uomini sono talmente tanti che sono anche in eccesso, cioè ci sono dei contingenti di cui i francesi non sanno che farsene, che magari rimangono su un lato, non prendono una posizione specifica, a volte si ammassano e rimangono indietro. C'è veramente una sovrabbondanza di uomini che potrebbe sembrare un grande vantaggio ma vedremo che in realtà non sarà così. Questa quindi è la disposizione. Pochi uomini inglesi disposti in formazione difensiva e un enorme mucchio di uomini d'arme francesi con accompagnati dalla cavalleria che costituiscono veramente una grande massa offensiva. A questo punto diciamo che la prima fase della battaglia è una fase di stallo, cioè le fonti antiche ci dicono c'è una fase di stallo, di incertezza. I francesi infatti preferiscono stare fermi ed aspettare perché nel frattempo avevano chiamato ancora altri contingenti a rinforzo. In teoria i francesi stavano aspettando l'arrivo di uomini dal duca di Brabante, dal duca di Angiot e dal duca di Bretagna che doveva portare complessivamente altri 7-8 mila uomini. Quindi i francesi hanno tutto l'interesse ad aspettare, ad avere sempre più uomini nel loro organico. Dall'altra parte Enrico V ha pochi uomini, quindi in parte vuole arrivare alla battaglia per evitare che i francesi diventino infiniti. Dall'altra parte però avendo pochi uomini, con pochi uomini non è bene attaccare, non è bene assaltare l'avversario. Quindi in realtà lui avrebbe voluto utilizzare una tecnica difensiva e farsi assaltare dai francesi mantenendo le posizioni. Quindi c'è veramente stallo e a volte non si sa quali ordini dare. Quando però Enrico V viene a sapere che alle sue spalle la città di Calais è stata bloccata dai francesi e quindi non ha neanche la possibilità di fuggire, allora decide di dare una mossa alla battaglia e dà un ordine importante. Assume un atteggiamento più offensivo e dà ordine agli uomini di prendere i pali che avevano ficcato nel terreno, di staccarli e di avanzarli di qualche centinaio di metri verso il contingente francese. In questo modo poi gli arcieri possono andare avanti, quindi disporsi più lungamente attraverso le collinette laterali e quindi arrivare poi con le loro frecce a toccare i francesi. Cioè fa una sorta di mezzo avanzamento dei suoi contingenti per poi arrivare finalmente alla battaglia. In questo caso i francesi si rendono conto che Enrico V sta spostando i pali in avanti, però la cavalleria decide di non attaccare in un momento di incertezza. Perché non lo fa? Non lo sappiamo esattamente. In parte non c'era un unico generale che decideva, questo è un problema. In parte c'è da dire che gli uomini, secondo alcune fonti antiche, avevano freddo, quindi colsero l'occasione per scaldarsi, per rifocillarsi e dare da mangiare ai cavalli. Fatto sta quindi che per una serie di incertezze la cavalleria francese non attacca nel momento in cui gli inglesi si stavano un po' dispiegando o aggiornando le loro posizioni. E questo effettivamente col sello di poi è una piccola occasione mancata. Arriviamo però a questo punto veramente alla battaglia. Arriviamo alla battaglia e che cosa accade? I francesi decidono di fare una prima carica di cavalleria. Le due unità di cavalleria che dovevano eliminare gli arcieri provano a caricare proprio i fianchi di questi due boschetti per eliminare gli arcieri, ma non ci riescono minimamente. Primo perché le zone boscose sono talmente fitte che i cavalli non passano a sufficienza. Inoltre i pali non vengono sorpassati, quindi vengono fermati dai pali, e gli arcieri scagliano tanti di quei dardi che i cavalli, che tra l'altro non erano abbastanza protetti perché erano protetti solamente sul muso ma non adeguatamente sul corpo, cadono a decine. Quindi per tutte queste motivazioni, per la presenza del bosco, per la presenza dei pali, per le tante frecce, queste prime unità di cavalleria falliscono il loro obiettivo, non riescono a toccare neanche gli arcieri e tragicamente scappano, addirittura investendo le prime linee degli uomini d'arme francesi. Quindi un'arma che gli si ritorce contro e scompagina parzialmente la prima linea di uomini d'arme francesi. A questo punto allora, visto il fallimento della primissima carica di cavalleria, cosa capita? Che la prima linea degli uomini d'arme pesanti decide di avanzare. Comincia ad avanzare, c'è questa enorme e impressionante avanzata, e allora tutti gli arcieri inglesi che sono posizionati cominciano a lanciare una quantità di frecce inimmaginabili. Proprio alcuni testimoni oculari della battaglia dicono un incubo di frecce, una tempesta, delle nuvole di frecce terrificanti, che cominciano a colpire a centinaia e centinaia di frecce tutti gli uomini che avanzano. E allora questa prima linea di uomini d'arme avanza e incede contro l'avversario, però ricevendo decine e decine di frecce sono costretti addirittura ad abbassare le disiere delle loro corazze e addirittura a posizionare la testa in avanti, perché persino la fessura degli occhi poteva essere colpita da una freccia. Quindi cominciano ad avanzare tutti bardati con ogni protezione possibile, con la testa abbassata, intravedendo davanti circa quel chilometro che li separa dal contingente inglese. E questa marcia in avanti diventa veramente, e qui arriviamo, ad un autentico carnaio, nel senso che avanzano, cominciano a essere stanchi, sudano terribilmente nelle loro pesantissime armature, l'armatura era 20-30 chili, non vedono più niente, non sentono bene i suoni attorno a loro. E poi sono migliaia e migliaia di uomini ammassati, uomini, cavalli, che avanzano, si spingono l'uno con l'altro, e mano mano che vanno avanti questa massa quasi praticamente in forme di uomini, mano mano che va avanti il terreno morbido diventa fango e quindi si muovono nella fanghiglia con sempre maggiore difficoltà, mano mano che gli arcieri stanno lanciando le frecce e stanno decimando il primo contingente francese. E allora questa prima linea che si sta avvicinando alla controparte è praticamente in un macello assoluto di stanchezza, di frecce, di morti, di sudore, nessuno capisce niente, nessuno vede nulla. Tanto è vero che quando la prima linea francese arriva a contatto con le tre unità inglesi, le fonti dicono gli uomini francesi, i soldati francesi, riuscivano a malapena a sollevare le armi, tanto erano sfiniti e tanto erano distrutti. E allora la seconda linea cerca di dare manforte, quindi di unirsi alla calca, però precipita nella stessa situazione. Stanchezza, sudore, non vedono, le frecce li ammazzano, si stringono l'uno con l'altro, non si capisce più nulla e quindi al centro c'è veramente una massa in forme di uomini d'arme francesi, tutti mescolati l'uno con l'altro in una bolgia assoluta. Si arriva alla fine allo scontro diretto con le tre unità inglesi che combattono e tre ore di combattimento selvaggio tra francesi, questo carnaio assoluto di francesi e gli inglesi diventano veramente una bolgia, dove però gli inglesi, sebbene in inferiorità numerica, alla fine hanno la meglio, non solo perché sono comunque leggermente più riposati e freschi, ma perché gli arcieri stanno continuando a disturbare i francesi in maniera importante. La lotta quindi è infuriata per tre ore. Gli inglesi hanno combattuto in maniera forsennata contro questa massa di uomini, di soldati francesi, tutti intabarrati, bloccati, infangati, che neanche si riescono più a muovere. Il campo di battaglia si è trasformato veramente in una carneficina, addirittura Enrico V viene colpito da un fendente alla testa che gli spezza una parte della corona che faceva parte del suo elmo e poi è anche costretto ad accorrere in aiuto di suo cugino che era stato ferito all'inguine, quindi personalmente deve salvare il cugino che è abbastanza vicino al luogo dove si trova con i suoi soldati. Però fatto sta che dopo tre ore di aspro combattimento i francesi hanno perso. Si hanno perso in maniera orribile e allora ci troviamo però in una fase immediatamente successiva di questa battaglia, che però è ugualmente particolare. Perché particolare? Enrico V ha appena vinto la battaglia di Azincourt. C'è un campo di battaglia assolutamente disastrato, però vede con grande preoccupazione che sul fondo ci sono delle unità che non hanno ancora partecipato alla battaglia, quindi delle unità francesi ancora fresche, che si stanno muovendo. Forse sotto gli ordini di Cligny de Brabant si stavano riorganizzando una sorta di terza linea di attacco. Questo per Enrico V sarebbe stato gravissimo, perché i suoi uomini ormai erano sfiniti, quindi un terzo attacco non lo avrebbe comunque retto. Inoltre c'è anche da dire che ormai gli arcieri avevano quasi esaurito le frecce, poi ormai in mezzo c'erano inglesi e francesi mescolati, quindi un terzo attacco sarebbe stato quasi devastante per Enrico V. E allora Enrico V prende una decisione piuttosto crudele. Con decisione, anche arroganza, esegue migliaia di esecuzioni, cioè uccide migliaia di uomini e di cavalieri francesi. Li uccide spietatamente, direttamente sul posto. Per quale motivo decide di fare questo nonostante i suoi stessi consiglieri cercano di, abbiano cercato di convincerla a non lasciarsi andare a tanta crudeltà nei confronti del nemico? Una prima motivazione, perché in queste battaglie bisogna anche supporre delle interpretazioni, una prima possibilità è che questo potrebbe essere stato un atto dimostrativo nei confronti delle retrovie francesi che si stavano riorganizzando. Era un atto per dissuadere i restanti combattenti francesi dall'eseguire un terzo attacco, vedendo migliaia di esecuzioni capitali combinate direttamente sul posto. Poi c'è una seconda motivazione. Potrebbe essere che, siccome i francesi erano comunque arresi, ma molto più numerosi rispetto agli inglesi, se questi avessero preso le armi dal terreno e si fossero riorganizzati, Enrico V sarebbe stato spacciato. Quindi era necessario diminuirne il numero nel più breve tempo possibile. Quindi dovete considerare che c'è questa sorta di appendice alla battaglia di Azincur con le retrovie francesi che si stavano riorganizzando, con questo pericolo per Enrico V, che una terza carica non l'avrebbe mai sopportata, e questa decisione molto crudele, ma che evidentemente venne presa per evitare la disfatta completa e per evitare una recrudescenza della forza francese. La battaglia di Azincur è stata quindi vinta in maniera decisiva dagli inglesi. Facciamo un po' considerazioni finali strategiche. Perché i francesi hanno perso nonostante la loro enorme superiorità numerica? Innanzitutto perché hanno avuto un comando militare molto miope. Non c'era un unico grande supervisore, un unico grande generale, ogni nobile faceva un po' per sé. Il comando militare è stato molto miope, non è stato capace di sfruttare la superiorità numerica, la conoscenza del territorio, anche le diverse unità su cui i francesi potevano contare. si sono ficcati in questa sorta di imbuto senza tanti complimenti. C'è poi da dire, è un altro elemento importante, che ci furono tante competizioni interne. I nobili francesi sul campo di battaglia volevano primeggiare l'uno sull'altro, avere le postazioni migliori, andare in prima fila per avere gloria e per avere riscatto, per avere bottino, e quindi questo creò delle competizioni interne che complicarono le manovre e resero l'esercito francese particolarmente confuso. Comunque, nonostante, al di là di tutte queste considerazioni, gli effetti della sconfitta di Azincourt sono pesanti. Sono pesanti perché? Innanzitutto perché secondo diverse stime circa 6.000 uomini morirono, 6.000 francesi persero la vita e fra i caduti, c'erano, l'abbiamo detto, tantissimi nobili. I nobili erano quelli che organizzavano delle milizie e che poi andavano a combattere per il re di Francia. Quindi la morte di centinaia e centinaia di nobili significava anche non avere degli straordinari reclutatori di soldati e intere famiglie nobiliari francesi vennero private dei loro eredi maschi. Quindi dovete capire che Azincourt fu anche una disfatta sociale per la Francia, fu anche, ebbe anche delle ripercussioni a livello familiare, sociale, di organizzazione dell'esercito, di reclutamento. Questo è molto importante. E la società francese venne poi dilaniata dalla guerra civile perché dopo la sconfitta di Azincourt, a un certo punto, siccome la gran parte dei caduti sul campo di battaglia apparteneva agli Armagnacchi, quindi quel partito politico di cui vi ho detto prima, i borgognoni, gli accusarono gli Armagnacchi della sconfitta e cominciarono a perseguitarli. Quindi la Francia vide un aggravio della sua pesantissima guerra civile. Quindi vedete che problema? La sconfitta militare, l'annullamento di nobili, casate, reclutatori, ma anche lo sconquasso della società civile francese, che vede il suo momento più basso durante la guerra dei cent'anni. Per gli inglesi invece la situazione ovviamente è diversa. Enrico V non può rimanere in Francia perché il suo esercito è veramente allo stremo, quindi ritorna in patria, è accolto come il vincitore, come un grandissimo eroe nazionale, quindi è coperto di onore, coperto di gloria, ottiene il risultato di dare la leadership alla casata dei Lancaster. A questo punto i Lancaster prendono il comando della politica inglese, sono quelli che decidono l'andamento della guerra, quindi porta il dovuto onore e il dovuto potere alla sua famiglia. E inoltre, proprio perché la Francia è anche socialmente distrutta, avrà un tempo di circa 18 mesi per riorganizzare il suo esercito, per fare delle nuove leve e quindi programmare una nuova spedizione contro la Francia, in particolare una sorta di attacco alla Normandia. Ma questa ovviamente è un'altra parte della storia. Fatto sta comunque che Azincourt è uno dei momenti più tragici della storia francese e al contrario più gloriosi della storia inglese nel Quattrocento. Speriamo quindi di avervi efficacemente aiutato a rievocare la grandissima battaglia di Azincourt, speriamo quindi di avervi trasportato all'inizio del Quattrocento in questo carnaio ferocissimo che purtroppo fu questo scontro tra inglesi e francesi e come sempre vi invitiamo a iscrivervi immediatamente al canale Iscriptamanent. Se non vi iscrivete, noi prendiamo un'armatura francese e nel momento in cui dovete fare qualsiasi cosa vi abbassiamo la visiera così non vedete nulla. Cercate di andare in bagno vi abbassiamo la visiera non ci andate, dovete mangiare vi abbassiamo la visiera non vedete il piatto, dovete guidare vi abbassiamo la visiera e morti. Quindi per non avere, per non vivere con la visiera abbassata e morti iscrivetevi al canale Iscriptamanent. Un caro saluto e al prossimo documentario. Ciao! 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 Ciao!